Un sospiro di sollievo enorme la sentenza di secondo grado che di fatto toglie il terreno dal play-out, contento? Molto, contento molto perché quest'anno è stato un anno duro, un anno dove forse è stato l'anno più importante che io come presidente mi sia impegnato, a livello parlo di società, ma quest'anno la società è stata a 10 lode, sicuramente la squadra un attimino meno, però alla fine finalmente si è rivista la verità perché le persone che si comportano bene vanno premiate e chi sbaglia purtroppo paga. Posso chiederle come ha vissuto queste ore in attesa della sentenza? Molto nervoso e molto sofferente, voglio dire che questa vittoria dobbiamo ringraziare la squadra domenica perché sul 3-2, una squadra che reagisce in quel modo, una squadra che ha voluto il pareggio a tutti i costi e poi sicuramente qualcuno sopra c'è e alla fine è arrivata una cosa che noi oramai non ci pensavamo più, però quando a fine partita ho chiesto i risultati, mi hanno detto che il Sant'Arcangelo aveva pareggiato, chi stava vicino a me ha sentito che ho detto allora sicuramente ci salveremo noi e non faremo i play-out. Ecco però lei ha dichiarato se il secondo grado dovesse dar ragione al Sant'Arcangelo potremmo andare al Collegio di Garanzia del Conio, non ha paura che succeda il contrario che adesso il Sant'Arcangelo va al Collegio di Garanzia? No perché il Sant'Arcangelo non ha ragione, le carte sono quelle, chi non paga i contributi non può fare niente, è stato ribaltato ma io penso che non farà nessuno ricorso perché fare ricorso su una cosa che non esiste, sicuramente non lo faranno il ricorso. Che cosa le ha insegnato questa stagione? E tante cose, mi ha insegnato che nei momenti di quando le cose non vanno bene sei un uomo solo, oggi ricevo tante belle cose ma sicuramente se oggi perdevamo sicuramente oggi Campitello non poteva stare qui perché ci voleva l'ordine pubblico, quindi mi ha insegnato tante cose e sicuramente tante cose che mi aiuteranno in futuro ad essere più una persona equilibrata sia quando si vince sia quando si perde. Un futuro che sarà ancora con il Teramo in mano, a capo a timone del Teramo? In questo momento voglio gustarmi con i ragazzi questo momento di grandissima felicità perché noi non ce ne siamo accorti, noi abbiamo vinto un campionato perché stare in Serie C siamo l'unica squadra della provincia, della regione Abruzzo a stare in Serie C, e qui se poi andiamo a vedere chi sta in Serie C in tutto l'ambito nazionale ci rendiamo conto che è una piccola realtà di 50.000 persone e in questa categoria vuol dire che forse con tutti i meriti abbiamo un grande cuore e un grande affetto per questa squadra e ne sono orgoglioso, l'ho fatto con tutto me stesso, sicuramente quando si sta qui certe colpe ce le ho sicuramente, ma oggi non so se Teramo può fare la Serie C perché ci dobbiamo mettere in mente anche di quello che ogni città può esprimere. Teniamoci stretta a questa Serie C in questo momento, però il futuro lo andremo a discutere più in là. Però è inevitabile che con la terza Serie il Teramo ha un appeal particolare verso chi voglia investire? Io fino adesso non ne ho trovato neppure uno che è sicurissimo, che è venuto anche gratuitamente, quindi adesso mi faccia fare un abbraccio a questi ragazzi che si sono meritati sicuramente questa Serie C. Ma si dice che Candeloro è interessato con il Teramo in Serie C? Candeloro è interessato con il Teramo in Serie C? Assolutamente no, Candeloro non lo sento da tanto tempo.